Siamo davvero soddisfatti, orgogliosi e anche entusiasti di vedere tornare il primo strega in città, ormai una collaborazione che dura nel tempo, che si è rafforzata e che ha saputo anche costruire una bella rete sul territorio. Da cosa nasce l'esigenza di raccontare queste storie? Nel caso mio è una storia dalla quale ho cercato di sfuggire per tutta la vita, fino a che non mi ha proprio acchiappata per i capelli e si è voluta far raccontare. Della storia in estrema sintesi del suicidio dei miei genitori naturali e dell'abbandono mio quando avevo otto mesi. Ho scritto questo romanzo perché sono sempre stata una grande appassionata di Saint-Exupery, un uomo di grande coraggio contro la guerra, che concepiva solamente la guerra contro gli invasori e che ha lottato per la sua Francia, occupata dal 1940, anche da lontano. L'unica volta che ha cercato di usufruire della sua grande fama è stato proprio quando è andato in America per cercare dagli alleati una difesa. Mi limitavo ad Amaretè, il mio ultimo romanzo viene dal fatto che nella primavera del 2019 mi è capitato di leggere un articolo di una testata che si chiama Osservatorio Balcani e Caucaso, che parla di Europa dell'Est e che parlava dell'esperienza dei bambini di Sarajevo che nel luglio del 1992 erano partiti, erano stati portati via dalla città assediata in Italia per salvarsi dalle bombe. E' la storia dei miei genitori, storia che ho sempre voluto raccontare, ho ricevuto dalle mie sorelle delle lettere di cui ignoravo l'esistenza, le lettere che i miei genitori siano scambiati quando erano fidanzati. E così, leggendo di questo periodo pieno di felicità e di sogni e di progetti futuri, ho deciso che era arrivato il momento buono. Ad Adamo non c'è più ed è questa la ragione per cui sono io qui a parlarne, che mi offre però il privilegio di poter dire rispetto agli altri finalisti che devono parlare dei loro libri, non avendolo scritto io posso dire con molta leggerezza che è un libro bellissimo, ma è una lettera in 30 capitoli di una madre a una figlia, una madre che nel corso del romanzo si ammala. La figlia è nata con una grave disabilità ed è un dialogo tra questi due corpi, ognuno dei due a suo modo ferito, a suo modo difforme, come si dice durante il libro. Grazie a tutti.